Ben trovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, apertura dedicata al calcio alla Lucchese che ha presentato ricorso contro la bocciatura della Covisoc per l'iscrizione al campionato. Tutto come previsto, la Lucchese ha avanzato ricorso contro la bocciatura della Covisoc che nei giorni scorsi aveva avanzato delle osservazioni sulla fideiussione presentata per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. La linea della società rossonera si verte sulle autorizzazioni del broker bulgaro a cui si è affidata un documento prodotto dallo stesso Ivas, l'istituto che vigila sulle compagnie di assicurazione e che è un'emanazione di Banca d'Italia. Un documento in cui verrebbe ribadita l'iscrizione della Insurance Company Nadeida all'albo. L'eventuale via libera della Covisoc arriverà soltanto martedì della prossima settimana. Rimane da capire il problema del punto di penalizzazione che, secondo gli esperti, con ogni probabilità, verrà comunque assegnato alla Lucchese per la presentazione tardiva della documentazione. E sempre a proposito di calcio, ma parliamo del campionato di serie D, il Ghibiborgo ha perfezionato l'ingaggio di Andrea Calistri. Ghibiborgo che dunque mette a segno un importante colpo visto che il giocatore era seguito da tante società. Tre gare e tre medaglie per gli atleti della Canottieri Massarosa giunti. Le gare si sono svolte sul lago di Sabaudia per il festival dei giovani Andrea Pazzagli e Marico Sereni hanno conquistato la medaglia d'oro con l'otto del Comitato Toscano e la medaglia d'argento con il doppio coppia di bronzo per il duo Senza. I complimenti giungono da parte dei dirigenti della società Massarosese. Il ciclismo dopo molte gare disputate all'estero tra Portogallo, Svizzera, Stati Uniti, Messico e Balcani. Amore e vita torna a correre questo weekend sulle strade italiane del trofeo Matteotti, storica classica estiva. Al via ci saranno Redi, Alilai e Marco Zamparella che partiranno entrambi con i gradi da capitano. Poi Danilo Celano, Yuki Nori Ishinuma, Eugenio Bani, Paolo Lunardon e il nuovo acquisto David Gallareta, 22enne spagnolo, un passista scalatore che tra gli under 23 ha conquistato la vittoria in quattro corse. Chiudiamo con una notizia di basket perché Luca Benini, il primo rinforzo sotto canestro della Geonova Centro Minibasket, Luca, classe 89, 2 metri. Luca è di Capannoli ma da tempo ormai si è trasferito a Pisa. È un lungo, un ala forte e quindi un giocatore che insomma preferisce giocare a fronte canestro ma è bravo a sfruttare i vantaggi fisici nel pitturato e lo vediamo con la maglia, l'abbiamo visto con la maglia di una sua ex squadra, il Bama Alto Pascio. È tutto per la pagina sportiva, una pausa e poi la terza parte del TG9.